Una diversa interpretazione della procedura Open Comuni sulla piattaforma russo o forse qualcos'altro, tant'è che il consigliere del Movimento 5 Stelle di Pescara, Massimiliano Di Pillo, non ci sta e chiede perché la sua lista sia stata esclusa. Il consigliere comunale, come Erika Alessandrini, designata quest'ultima quale candidato a sindaco ufficiale per il Movimento 5 Stelle a Pescara, aveva affidato alla piattaforma russo nella sezione Open Comuni appunto la valutazione sulla lista. Nella tarda serata di ieri la doccia fredda in una mail arriva alla non certificazione. Di Pillo scrive direttamente a Grillo a questo punto e agli altri esponenti pentastellati, ribadendo che la presentazione della lista, composta da storici e attivisti, è stata fatta rispettando le regole. Ribadisce che non si candiderà a sindaco con una lista civica ma che vuole conoscere i motivi dell'esclusione. Poi conclude perentorio il comunicato firmato dallo stesso e da altri esponenti pentastellati il Movimento sta morendo o magari dimostrateci di no. Noi stiamo facendo da cavia, aggiunge, visto che la situazione potrebbe riproporsi anche in altri comuni italiani. Quello che c'è scritto per esempio nella funzione Open Comune diceva che noi potevamo presentare la lista entro il termine uto di 30 giorni prima della presentazione delle liste stesse e quindi del 26 di marzo. Certo, noi siamo nelle regole, vogliamo la trasparenza, vogliamo la democrazia. Purtroppo la risposta è stata quella di non certificare la lista e la firma, lo staff, identifica forse la poca trasparenza all'interno di questa risposta. Voi avete scritto una lettera anche ai vertici del Movimento 5 Stelle o non solo? Assolutamente sì, perché per certi versi questa situazione purtroppo se non verrà sanata o se non verrà comunque giustificata dallo stesso staff diventerà un caso nazionale. Lei ha chiesto come è stata scelta il candidato sindaco. Sì, io vorrei capire per una questione di trasparenza e democrazia come, quali sono state le motivazioni che hanno portato alla scelta del candidato sindaco. Per nessun motivo, diciamo, di polemica. Anche la nostra non certificazione non ci è stata data come motivazione, solo esclusivamente il fatto che c'era già una lista certificata. Io ho parlato con molti componenti, diciamo, di alto livello del Movimento e le risposte sono state quelle che se ci fossero state più liste certificate saremmo andati al voto all'interno degli iscritti russo del Comune di Pescara. Quindi mi aspettavo questo, purtroppo non è venuto.